Format e gestione dello spazio, come nasce questo corso di formazione per i farmacisti della provincia di Agrigento? È il secondo corso che facciamo nel nostro percorso di management inaugurato ormai da qualche anno insieme alla Mylan. La Mylan è stata una delle primissime aziende a credere nel nostro progetto che è stato formare l'eccellenza quando ancora era un esperimento formativo. Oggi ormai da anni è diventata una vera e propria realtà e ormai in maniera consolidata abbiamo il piacere di dedicare la seconda parte dell'anno a questo percorso di management. In particolar modo il corso di stasera e il corso che a dicembre chiude questo momento, quest'area tematica, quella del management, sarà dedicata al marketing e alla comunicazione in farmacia. Questa sera ospitiamo la professoressa Maria Grazia Cardinali, che è docente di marketing strategico all'Università di Parma. Abbiamo, grazie a questa condivisione, a questa sinergia su cui è proprio basato il nostro network formativo, ha avuto il piacere di riportare ad Agrigento la formazione di alta qualità e docenti di alto profilo e soprattutto di aver riallacciato il confronto con tanti Atenei italiani. Stasera appunto portiamo avanti un corso su una tematica, quella proprio del marketing, che ci è stata tante volte richiesta dai colleghi. È un corso che sarà particolarmente eseguito e questo ci dà proprio l'idea di aver interpretato davvero quello che era il desiderio formativo dei colleghi qui ad Agrigento.